Ciao azzurri fan! Abbiamo alcune notizie interessanti da condividere con voi. L'esperto esterno belga Thomas Mounier è alla ricerca di un nuovo club e il Napoli è tra le squadre interessate a ingaggiarlo. Premi già il pulsante mi piace se ami il Napoli con il cuore. In questo video esploreremo i dettagli di quella transazione e come Mounier potrebbe inserirsi nella squadra. Con solo 18 partite giocate nell'ultimo campionato, il Borussia Dortmund sta cercando una sistemazione per Thomas Mounier. Per facilitare la sua partenza, il club tedesco ha fissato un prezzo di vendita di soli 3 milioni di euro. Questa situazione ha suscitato l'interesse di alcuni club, tra cui Napoli, Inter e Milan, oltre all'Aston Villa in Inghilterra. Mounier è un giocatore con una vasta esperienza sulla scena europea, il che lo rende un'opzione interessante per le squadre che cercano rinforzi terzini. Al Napoli potrebbe fare da alternativa a Di Lorenzo, offrendo esperienza e qualità tecnica alla squadra. Con la sua capacità di giocare come ala, Mounier potrebbe aggiungere profondità alla squadra del Napoli e portare una nuova opzione tattica alla squadra. La sua esperienza nelle competizioni europee sarebbe anche preziosa per il club nella sua ricerca di successo sia, a livello nazionale che internazionale. Il possibile acquisto di Thomas Mounier da parte del Napoli porterebbe in squadra un giocatore esperto e versatile. Con un prezzo di vendita fissato a soli 3 milioni di euro, il club italiano ha l'opportunità di acquisire un giocatore di qualità a un prezzo accessibile. Continueremo a seguire da vicino gli sviluppi di questa trattativa e vi porteremo tutti gli aggiornamenti sul nostro canale. Restate sintonizzati per non perdervi nessuna notizia sul Napoli e sui suoi acquisti per la prossima stagione. Non dimenticare di iscriverti al nostro canale per ricevere tutte le notizie e le informazioni aggiornate sul Napoli. La stagione si preannuncia entusiasmante e noi saremo qui per fornirvi tutte le informazioni rilevanti. Forza Napoli sempre!